chi è? ciao ragazzi vederci no saluta 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 la serie C salutiamola Loris entra dentro entra madonna vieni andami la serie B serie B serie B serie B ma va saluta l'abito dai fatemi vedere salutate l'abito salutate l'abito tutti l'abito pure che sta sale fin dov'è? oh non staccate le luci eh ora ci sono le foto no 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 ma fa il culo madonna al passiva e se ne va la capolista se ne va la capolista se ne va la capolista se ne va e se ne va la capolista se ne va e so via ma che ah... цвет Ma che cazzo fai? Siamo noi, siamo noi I campioni della Wisp siamo noi Siamo noi Siamo noi I campioni della Wisp siamo noi Siamo noi Siamo noi Siamo noi Siamo noi La foto? La foto devo fare? Aspetta fammi staccare